Buonasera a tutti. Veramente bello. Torniamo a vederci. Pure la penna che si porta. Mamma mia, come sei precisa. A cosa non si è abituata? Ah, ok. Ok, ok. No, soprattutto io le ho confessato subito che in realtà ero là per conoscere Evangelion. Il suo gatto psicopatico, come lo chiama lei, che chi la segue su Instagram sa chi è e sa che se l'è portato su dal suo famigerato viaggio in Sicilia. Sfamigerato perché, come spesso le capita, lei dice una cosa vera. In quel caso raccontò di noto la grande bellezza e la grande monnezza e fu selvaggiamente attaccata. Ecco, tornando al gatto, dicevamo su Instagram appunto la stare lui, proprio qualche giorno fa lo abbiamo visto scoprire la neve. Era veramente ipnotico, no? Ma per dire che infatti tu dici il psicopatico è anche un po' un narcisista patologico. E continuando con la lettura psicanalitica, invece il povero cane Godzilla è un po' il dipendente affettivo. Ecco, quindi insomma davvero crea dipendenza, quindi il gatto c'entra anche con questo libro. Però, prima di parlare del libro e avendo già parlato del gatto, forse bisogna dire anche qualcosa di lei. Non credo che abbia bisogno di presenti. È bellissima questa cosa, mi sta piacendo tantissimo. Cioè è un taglio originalissimo, nessuno ha iniziato come te. Eh beh, questa è la città della Letizetto. Ecco, dicevo, non credo che abbia bisogno di presentazioni, anzi potrebbe fare tutto lei. Io sono qua soltanto per, diciamo, intercalare. Però, soprattutto perché se siete qui è perché sapete chi è e come è. Semmai, visto che è una giornalista cross-mediale, vero? Magari qualcuno la conosce per i pezzi che scrive sui quotidiani, attualmente su Domani, o per Radio Capital, il programma su Radio Capital, o per Piazza Pulita, o per i libri. Perché questo è il quinto, quindi ne hai già scritti quattro. E, però, diciamolo, tutti ti conosciamo per Ballando con le stelle. E per i giudizi che dai, che, tra l'altro, non sono sempre sul ballo, del quale, peraltro, non nemmeno tutte. Non frega niente a nessuno, diciamoci la verità, a parte a Caroline Smith. Ecco, quindi, che altro dire? Che hai fatto, ha fatto il classico, studi di teatro. Nel libro apprendiamo anche che ha fatto la PR in discoteca, che è una figura professionale che mio figlio maschio ammira moltissimo. Quindi, e poi, vivi con il figlio, cioè con il compagno Lorenzo Biaggiarelli, che fa il cuoco dalla Clerici, nella trasmissione della Clerici, con il figlio di 17 anni che fa l'adolescente, Leona. Ogni tanto li confondo. Ecco. E poi abbiamo detto, con i già stracitati, Godzilla, i cane, Evangelion, il gatto. Insomma, siete maturi per una docu-serie alla Ferragnez. Ma gliel'ho già chiesto e mi ha detto di no, vero? Poi non è detto, magari. No, 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 non è il mio mondo, diciamo così. Mi piace raccontare di me, della mia vita privata poco, un po' di cose. Magari ora che sono in promozione, mi sono raccontata così tanto nel libro, è più facile raccontare cose un po' più private, ma in massima cerchiamo di mettere qualche foto e non tanto di più. Non tanto di più. Va bene, allora adesso possiamo parlare del libro. Partiamo da come nasce, un po' per caso, l'assedio della Bignardi e come è diventato prima un podcast, prima di diventare un podcast. Sì, allora nasce in maniera del tutto casuale e forse neanche troppo. Io sapevo che prima o poi avrei raccontato questa storia, però erano dieci anni, come dicevo, prima o poi la racconterò. Vado a lavorare a Radio Capital, siamo in tre a Radio Capital, io, Ambra e Daria Bignardi. Io e Daria Bignardi non ci conosciamo e lei mi propone di bersi un caffè, insomma, per fare un po' di chiacchiere e testarci un po'. Ecco, ero stata ospite un po' di anni fa, un po' di anni prima delle invasioni barbariche, ma non come ovviamente intervistata principale in un talk. Lei mi chiede perché vivo a Milano, visto che sono di Roma, e io le dico, ma sai, ho avuto una storia d'amore con un uomo che viveva a Milano, ci siamo lasciati, lui mi ha ammollata e per me la grande rivincita era, in quel momento, rimanere comunque a Milano. Cioè, con lui avevo fallito, con questa città non volevo fallire. Sarebbe stata una sconfitta ulteriore, prendere di nuovo armi e bagaglie e tornare a Roma. E quindi inizio a raccontarle con estrema naturalezza questa storia così dolorosa. E a me sembrava di raccontare una storia, sì, molto sofferta, sofferente, però, insomma, nulla di eccezionale. Più continuava a raccontare questa storia, più Daria sgranava gli occhi, tipo Gatto di Shrek, come se io stessi raccontando qualcosa di assolutamente eccezionale. E lì ho capito che effettivamente io stavo raccontando quella che mi sembrava una cosa tanto comune a tante persone, ma che in realtà era molto nota, la sindrome appunto della dipendenza affettiva, in libri di psicologia, quindi in testi di psicologia, testi molto tecnici, ma forse nessuno aveva fatto ancora un vero e proprio coming out in questo senso, oppure l'aveva fatto però sfumato senza dargli proprio il nome dipendenza affettiva. Per cui mi sono detta, forse è il caso che racconti questa cosa, lei mi ha detto subito, no, vieni, raccontala, è importante, è importante, è importante, perché insomma io sono una donna che di cose ne ha viste e ne sa, però questa storia, questa cosa non l'avevo mai sentita. Quindi sono andata da lei e le ho raccontato, insomma, quello che mi era accaduto in una specie di seduta di psicanalisi, perché quell'intervista non è stata un'intervista, è stata lei che mi guarda e fa raccontami e io ho fatto 20 minuti di flusso di coscienza e poi è nato il podcast. Ecco appunto il titolo, un po' è accennato, crepa cuore, in realtà il titolo te l'ha suggerito tuo figlio e la traduzione italiana di un termine giapponese che indica questa sindrome, che ora è riconosciuta ma non da molto in Italia. No, dal 2013, diciamo che ha dignità proprio di una vera e propria dipendenza riconosciuta, esattamente come le dipendenze da alcol, da droga, da ludopatie, eccetera, dal 2013. Quindi oggi sappiamo che questo tipo di storie, naturalmente se riconosciute come tali in tutte le loro sfumature, non sono semplicemente amori infelici, ma sono vere e proprie dipendenze sentimentali e affettive. Ecco tu infatti nel titolare i capitoli usi proprio il lessico della tossicodipendenza, il primo buco, la droga è finita, astinenza è ricaduta. A casa tua nell'intervista mi avevi detto che mentre scrivevi il libro ti è capitato di intervistare Fabio Cantelli, uno dei protagonisti della docu-serie Sampa. Ecco, racconta anche al pubblico del circolo dei lettori che cosa hai provato ascoltandolo. E' stata una cosa pazzesca perché io avevo visto il documentario su San Patrignano, quindi su Muccioli, e ne ero rimasta affascinata. Quindi avevo deciso di intervistare, non so se lo avete visto, Fabio Cantelli che è uno dei protagonisti, era l'ufficio stampa di San Patrignano, quindi un grande amico anche di Muccioli, nonché un ex tossicodipendente, ed era quello che nel documentario racconta la storia seduto sul bordo del letto, molto magrolino e maciato, eccetera. Quindi l'ho intervisto e lui mi comincia, a un certo punto gli chiedo spiegami che cos'è la droga. Stavo scrivendo il libro e lui mi inizia a spiegare che cosa sia il rapporto tra un tossicodipendente e la droga, mi comincia a dire non sei tu a usare la droga, ma è la droga che usa te. E mi racconta tutte le sensazioni fisiche, quindi l'euforia del primo buco, eccetera. Più mi raccontava, io stavo scrivendo questo libro, e più io trovavo delle fortissime analogie con quello che stavo scrivendo e addirittura dei termini identici che io ho già utilizzato e riportato nel libro, proprio delle sfumature, tanto che a un certo punto io ho scritto un capitolo in cui spiego cosa succede quando io inizio a uscire da questo tunnel. Cioè, dico proprio una cosa che lui ripete, ma veramente con un'esattezza nelle parole, che mi ha davvero scioccata. Lui dice, Muccioli mi ha preso, mi ha fatto chiudere in una specie di stanza, in una specie di cubo di cemento, in cui metteva le persone che avevano veramente, in quel momento, una crisi di stanza fortissima. E io mi sono ribellato il primo giorno, quindi ho cominciato a prendere a testate la parete, volevo uscire, stavo male perché avevo bisogno della droga, finché a un certo punto mi sono sdraiato per terra, mi sono arreso, e mi è successa una cosa incredibile, mi sono come visto dal di fuori, come se io in qualche modo mi vedessi dall'alto, un'esperienza, lui dice, quasi extracorporea, e ho visto questo esserino rannicchiato, magro, emaciato, consunto, e mi sono fatto pena, mi sono fatto tenerezza. Ecco, io ho scritto esattamente una parte del libro, in una parte del libro, che a un certo punto mi sono vista dal di fuori, da quello spostare lo sguardo, e mi sono fatta profondamente pena. Cioè, ho visto che dopo questi quattro anni di ossessione, mi viene da dire ancora amorosa, ma non è amorosa, di ossessione, ero davvero fragile, debole, piccola, sfinita, stanca, senza più soldi, senza più energie, senza più niente nella vita, e finalmente, vedendomi dal di fuori, ho detto, ok, sto davvero male, devo badare a me stessa. Nel momento stesso in cui ho capito che la persona a cui dovevo badare ero me stessa, ho smesso finalmente di pensare a lui. E questo davvero è quello che ha raccontato Fabio Cinti, per quello dico che poi alla fine, Cantelli, scusami, per questo dico che poi alla fine ci sono delle analogie così forti tra le dipendenze affettive e quelle d'alte sostanze che non puoi non capire che davvero siamo nello stesso segmento. Ecco, mentre lo leggevo, io te l'ho detto subito e non so se poi altri ti hanno riportato la stessa impressione, a me sembrava leggendo, di inoltrarmi progressivamente in un thriller. E l'inizio era quello di una storia d'amore, appunto come dice anche tu, tu bella con una certa fama televisiva, lui manager brillante, che a un certo punto ti scrive una mail che tu appunto chiami il primo buco. E ve lo leggo. Il primo buco fu una mail. Niente di speciale a dire il vero. Ciao, ti ho vista buona domenica e ti ho trovata simpatica. Non sono uno sfigato che scrive a una che ha visto in tv. Se non ci credi vai pure su Google e cerca il mio nome. Ciao. Era una mail appunto, come tante, o forse no. Perché no? Beh sai, poi come dire, quando sai come finisce il thriller, andare a ritroso e guardare gli indizi è facile. Diciamo che non lo era col senno di poi. Nel senso che queste poche righe tradiscono già ha il focus, il centro. Lui non parla di me, lui parla di sé. Lui mi dice ti ho vista buona domenica, sei simpatica. Ora però passiamo a me. Cioè, ti dico chi sono io. Non sono uno sfigato. Cioè, già lui si pone il problema di essersi abbassato a scrivermi, in più a scrivere una che, tutto sommato, fa la sciacquetta a buona domenica e vuole in qualche modo ristabilire i ruoli. Vuole dire, sì, ok, sono io quello che ti ha scritto, ma guarda, chi sono? Vai su Google, cerca il mio nome e cognome e scoprirai che sono un figo della Madonna. Questo mi stava dicendo. Cosa che in effetti poi io naturalmente ho fatto. Cioè, lui ha buttato l'esca, io ho abboccato proprio alla grande. E la sventura la risposta. Ho googolato, ho googolato anche immagini, devo dire che erano immagini, insomma, non male. E quindi da lì poi l'innesco è stato quello ed è stato tutto molto facile l'inizio. Ecco, il primo giro di vita arriva, giro di vite, scusate, arriva a pagina 67 e ha a che fare con il tappo dell'ammorbidente. Dopo qualche giorno di convivenza feci un'innocua lavatrice. Lui tornò dal lavoro, andò nella stanza lavanderia e lo sentì mogugnare. Non hai avvitato bene il tappo dell'ammorbidente, sottolineò con freddezza. Ah, ok, risposi distrattamente. No, non è ok. Se non avviti il tappo e durante la centrifuga il flacone cade, il liquido finisce per terra sul mio parquet. Sei pregata di avere più attenzione per la casa e per tutto quello che ci sta dentro, sempre se ne sei capace. queste storie iniziano sempre con una grande euforia. Non sono storie che iniziano come le altre. Certo, tutte le storie d'amore iniziano con insomma un certo invagimento, un certo coinvolgimento più o meno forte. però iniziano con un vero e proprio love bombing. Queste persone, questi manipolatori, non li chiamo narcisisti perché narcisista è una parola molto abusata e non mi piace, è diventata quasi un po' mainstream, un po' insomma troppo utilizzata dal mio punto di vista. Questi manipolatori in qualche modo devono catturarti, ti ammagliano inizialmente. Sono in assoluto le persone più capaci di farti sentire amata, di essere insomma di farti credere di essere il centro della loro vita. Sei la donna che io ho sempre desiderato, quella che ho sempre cercato, sei meravigliosa. Io non ho mai trovato una donna come te se io non mi sono mai legato in maniera definitiva perché non ho mai incontrato una donna come te già questo dovrebbe far scattare tutta una serie di allarmi e quindi tu vieni travolto da questo bombardamento quindi la bombing d'amore quello che sembra amore e in queste storie c'è poi un momento in cui succede qualcosa che è come se spalancasse la finestra su un panorama completamente nuovo. È sempre un episodio piccolo o grande ma comunque un episodio che poi tu fotografi come quello dopo il quale nulla è come prima. È come se a un certo punto si accendesse il luminol in una stanza buia e tu vedessi tutta una serie di cose che prima c'erano ma che non avevi visto. Nel mio caso fu un banale incidente anzi non incidente domestico io avevo fatto la prima lavatrice in casa sua lui mi ha accolto in questa specie di casa asettica pulitissima bianca e ha fatto questa concessione un po' come io ho concesso a te di entrare nella mia casa era stato così generoso che è tutto il contrario che è tutto il contrario e io faccio questa prima lavatrice sentendomi parte della sua famiglia per la prima volta lui torna dal lavoro e guarda un po' come ho fatto questa lavatrice e nota che avevo avvitato male il tappo dell'ammorbidente cioè io non l'avevo neanche notato lui l'aveva controllato aveva notato che era partita la centrifuga e quindi era finita la lavatrice con quell'ammorbidente avvitato male quindi il suo primo rimprovero serio è stato non hai avvitato bene l'ammorbidente con la centrifuga sarebbe potuto cadere tutto sul parquet e quindi quindi niente perché poi cade un po' un po' d'ammorbidente sul parquet non è che si butta via si deve sradicare tutto il parquet e si rifà tutto il pavimento insomma ma me lo ha detto in maniera talmente crudele brusca feroce cioè stai attenta questa è casa mia impara a giustire questa casa che immediatamente ho sentito un cambio di registro un cambio di tono per cui mi sono detta ma che film è questo cioè cosa ho visto fino ad oggi ho visto un film diverso questo che cos'è cioè era il trailer e quello era un trailer ma di un film che non è quello annunciato e quindi lì ho sentito fortissimo un allarme dentro di me come a dire c'è qualcosa che non avevo capito e in effetti poi da lì è stato tutto un climax sempre più doloroso infatti poi iniziano le demolizioni della tua bellezza per esempio lui riconosceva che eri bella ma una bellezza da camionista e introduceva il curioso concetto di benaltrismo estetico che poi ci spiegherai e subito dopo arriva anche la demolizione professionale per esempio lui dice cioè tu a un certo punto dici il mio lavoro ai tempi principalmente quello dell'ospite in tv era poco serio sguazzavo nell'effimero mentre lui rivoluzionava il mondo della comunicazione lui era un professionista riconosciuto da esperti del settore io la sgallettata riconosciuta da qualche sfigato o teledipendente per strada io mi occupavo di gossip e scemenze lui spostava milioni di euro e poi arriva a dirti scusate ecco arriva a dirti me l'ha detto anche il mio amministratore delegato avrei bisogno di una manager di una direttrice di mostre o musei di una imprenditrice seria accanto insomma l'aspettativa era quella di una costruzione di una power couple siamo freschi di scala forse voleva piuttosto una Lady Macbeth sì secondo me non era poi neanche vero era quello che voleva raccontarmi per umiliarmi e mortificarmi ulteriormente la verità è che lui aveva scritto ad una donna che partecipava a quei salotti quindi sapeva perfettamente guardava buona domenica guardava buona domenica tra l'altro voglio dire e in questo genere di relazioni queste persone si nutrono dello svilimento altrui cioè più in qualche modo ti tolgono autostima gioia nel raccontarti nell'essere quello che sei e più loro nutrono il loro ego ipertrofico lui aveva proprio un godimento sadico nello smontarmi in tutti i settori in tutte le parti i pezzetti della mia vita in particolare in quelli che potevano in qualche modo essere tra virgolette di successo cioè lui è partito subito nello smontarmi quelli che erano i miei punti di forza quindi ero carina e mi diceva che sì certo ero carina piacevo ma ero una da camionista e il benaltrismo estetico lo intendevo in questo senso naturalmente non ero la prima donna che aveva il suo modo per smontarmi era sempre quello di confrontarmi con le sue ex fidanzate di cui mi mostrava immediatamente appena sono arrivata a casa le foto per ragioni del tutto oscure per me in quel momento e naturalmente quindi c'era sempre questo parametro incombente per cui sì ero carina ma la sua ex era molto più raffinata di me era più alta era più magra era più qualsiasi cosa era più tutto e quindi io immediatamente cominciavo a soffrire l'idea retroattiva poi di queste donne che alleggiavano in questa casa come fantasmi tra l'altro c'era questa foto sul comodo di casa della sua ultima ex fidanzata cioè io ero andata a vivere da lui ma c'era la foto della sua ex sul comodo lui non la toglieva e non l'ha tolta per mesi mesi e mesi io tutti i giorni rientravo e mi vedevo questa eccetera quindi tutto questo naturalmente creava dei mostri nella testa lui lo sapeva molto bene lavorava su questo il lavoro è vero che io partecipavo a salottini abbastanza discutibili però comunque dei due ero quella mediaticamente nota ero quella che andava in tv ero quella che veniva riconosciuta per strada e siccome lui questo lo viveva come un ridimensionamento di sé del suo valore per cui doveva smontarmi anche questo sì tu sei quella nota ma alla fine sei una sfigata che va in questi salottini trash eccetera e più lui mi diceva questo più mi convincevo che avesse ragione può avere ragione tra l'altro però non era il caso di dirmelo così e quindi più lui insisteva nel dirmelo e più io cercavo di paradossalmente di corrispondere a quell'idea lì perché mi sentivo poco non mi sentivo abbastanza non mi sentivo adeguata né alla sua altezza e alla fine probabilmente piano piano fidivo per somigliare a quello che lui voleva io fossi cioè una poveretta senza arte né parte una sgallettata senza autostima e senza una professione rispettabile senza soldi senza nulla torniamo un attimo sulla casa perché è importante è la scena di questo incubo è un bel loft milanese progettato da un architetto e praticamente rimasto incantesimato alla condizione di progetto perché rimane proprio così com'era quindi pochi arredi solo colori neutri unica cosa viva un vaso di fiori che per noi in realtà era più una natura morta da come lo raccontavamo era una presenza quasi funerea ecco tu come te la spieghi quest'ossessione per la casa? a parte mi hai ricordato una cosa molto divertente che mi è successa quest'estate io quest'estate vado in un albergo a Trapani scelto con molta cura in realtà era un B&B bellissimo arredato benissimo e ho trovato un po' freddo nell'arredamento però mi sembrava davvero molto bello quindi vado a Trapani in vacanza in questo hotel in questo B&B e dopo un giorno faccio un paio di foto e le posto su Instagram mi scrive un architetto che avevo conosciuto perché era il suo migliore amico e mi fa ciao selvaggia incredibile sei nell'albergo che ho progettato io come la casa di e dice ecco cosa cazzarola mi ricordavano queste nicchie nel muro e ho detto non è possibile sono finita proprio lì e quindi gli ha guastato le vacanze perché ho cominciato a riconoscere elementi cioè avevo sentivo che qualcosa mi evocava vabbè comunque detto questo qual era la domanda la casa la casa gli somigliava la casa gli somigliava queste persone hanno un fortissimo senso del controllo e quindi come devono controllare te la loro relazione e soprattutto la loro sfera emotiva perché è quella la cosa che principalmente devono controllare devono controllare anche tutto quello che è intorno a sé la sua casa era davvero una proiezione della sua personalità lui lavorava nella comunicazione a Milano quindi quando scrivevo questo libro mi sono resa conto del fatto che sembrasse quasi un cliché dire che viveva in questo loft bianco milanese sembra quasi un film di Fabio Wull sai quelle cose lì in cui tutto è stereotipo la verità è che non c'era alcuno stereotipo quella casa somigliava davvero alla sua personalità quindi era assenza di colori totale quindi dal mio punto di vista per fare psicologia da bar assenza di passione di cose che non sono non puoi imbrigliare e poi aveva questo ballatoio sopra dal quale tu potevi vedere tutto il resto della casa quindi sul ballatoio c'era la camera da letto e da sopra potevi vedere il salotto la cucina eccetera quindi più senso del controllo di quello mi viene in mente solo Guantanamo praticamente e poi sotto c'era un seminterrato con una piccolissima spa con una piscinetta insomma io dico piscina ma era quasi una vasca che era perennemente spenta perché ovviamente se tu accendevi qualcosa lì o mettevi dell'acqua faceva muffa sulle pareti non sia mai che poi quella casa si rovinasse e però appunto proprio perché doveva controllare anche quella zona della casa c'era un quadratino di vetro sul pavimento in modo che anche dal ballatoio tu potessi vedere la piscinetta sotto vuota così tanto per avere sempre tutto in vista e ecco davvero quella casa col senno di poi era la rappresentazione della sua della sua personalità in cui tutto doveva essere a vista in cui tutto doveva essere sotto controllo in cui lui poteva dirigere tutto e sapere che tutto sarebbe andato esattamente come lui voleva e noi in quella casa inevitabilmente siamo stati ospiti scomodi esattamente come poi nella sua vita nella sua sfera emotiva né più né meno ecco infatti in questo libro si sorride anche e leggendo certe cose però ci si chiede come sia possibile che la prima non rendersi conto diciamo del ridicolo tu hai molto i tempi e i modi comici quindi è strano e del grottesco anche della situazione appunto che la prima non si è stata infierire però adesso così e beh però perché si fa fatica per esempio a immaginarti come ti descrivi a pagina 76 mi infilai anche tu hai un po' di senso del controllo eh dici sempre numero della pagina eh certo ma perché no perché una volta che comprano il libro così poi sanno dove andare i punti più più esatto mi infilai nella doccia mosaico del bagno di casa con uno spazzolino da denti e l'anticalcare ed eliminai il suo incubo pulì a una a una le fughe nere tra una microtessera e l'altra quando finì dopo tre ore buone di lavoro senza sosta misi un fiocco rosso sul piatto doccia sì allora dove ridi non c'è da ridere certo ci dai un'indicazione interessante la metteremo qual è l'indicazione ah come si pulire come si puliscono le fughe nere sarà il prossimo libro del resto come pulire le fughe nere e sponsorizzato Nuncas esatto beh sai io naturalmente vivevo per compiacerlo per assecondarlo per capire quali fossero gli elementi su cui lavorare che potessero in qualche modo farmi amare di più e avevo capito che la sua ossessione era l'ordine la pulizia e quindi inevitabilmente dovevo lavorare su quello dovevo concentrarmi su quello per essere all'altezza e questa casa era in tonza cioè era una sala operatoria non era una casa per cui ho cominciato ad analizzare quello che potesse essere insomma un margine di miglioramento all'interno di quella casa e lui intanto si lamentava di questa doccia mosaico con questi microtasselli che purtroppo aveva il difetto di avere queste fughe fughe nere insomma un po' di sporco tra un microtassello e l'altro e quindi il giorno del suo compleanno io mi sono attrezzata ho comprato l'anticalcare e con queste con questi questi chili di litri di via cal sono entrata nella doccia in bandanocini e canotta e ho cominciato con lo spazzolino dei denti a pulire fuga nera e fuga nera fuga nera fuga nera migliaia di fuga nere ci ho impiegato credo mezza giornata forse anche di più quindi poi alla fine ero tutta arrossata le mani rosse qui ero tutta rossa eccetera però ero riuscita a pulirgliela tutta non avevo lasciato neanche una fuga nera grigiastra e quando lui è tornato insomma gli ho detto ti ho fatto un regalo e non è stato deluso cioè non si aspettava un oggetto cioè quando l'ha vista cioè gli sono illuminati gli occhi e io davvero oggi sembrava una barzelletta ma se penso al momento in cui io credo lui mi abbia amata in quella storia cioè secondo me è stato quel momento lì basta cioè io ho visto nei suoi occhi l'amore dopodiché non è stato amore però io in quel momento credo che lui fosse davvero innamorato di me davvero non mi stava usando non era un manipolatore era davvero un uomo innamorato però poi purtroppo le fuga nere si ricredavano come una settimana la fuga la fuga era la mia doveva essere la mia ma insomma purtroppo sono rimasta lì e non ridere vabbè ridi ridi ormai si può ormai si può ecco a un certo punto tu scrivi la relazione smise di essere solo malata e divenne anche pericolosa e paradossalmente questo succede quando ti accorgi di non saper stare né con lui né senza di lui anche questa sembra una cosa romanticissima il famoso nexi ne te ne te convivere possono degli amores di Ovidio in realtà è un inganno tragico perché poi tu cominci lì a fare cose pericolose dici che guidi in stato confusionale mangi poco smetti di pagare le tasse sì tra l'altro questo discorso della precarietà economica è molto importante comunque la verità è che in queste storie il né contene senza di me è l'elemento portante nel senso che non c'è più un luogo e un momento felice della propria vita un luogo in cui riposarsi io ricordo lo stavo dicendo ora mentre venivo in treno parlando con una persona di questa vicenda il luigi momenti di pace perché c'è un pensiero circolare cioè il pensiero di lui è costante da quando ti svegli la mattina a quando vai a dormire la sera mentre fai altre cose c'è comunque il pensiero di lui cosa farà mi lascerà perché non mi chiama dov'è cosa fa ed è davvero un pensiero ossessivo che non ti lascia mai quindi anche sfinente da un punto di vista fisico e psicologico cioè è come essere un elettrodomestico sempre acceso non avere mai tregua nella vita quindi io paradossalmente non vedevo l'ora di addormentarmi la sera se ovviamente riuscivo a prendere sonno perché era come non so come dire spegnermi finalmente oppure paradossalmente quando andavo in tv e si accendeva la telecamera io dicevo ecco finalmente mi riposo in un momento in cui l'adrenalina invece poi quando voglio di parli in pubblico in televisione sei su di giri perché devi essere prestante eccetera performante io mi riposavo perché era l'unico momento in cui potevo staccare il pensiero e la mente e non pensare a lui cioè dovevo necessariamente focalizzarmi su una domanda e una risposta o qualcosa da dire io mi riposavo in quel momento quindi immaginate quanto fossi stanca tutto il resto del giorno tant'è che poi si hanno una serie problematiche fisiche perché inevitabilmente tutto si trasforma in reazioni psicosomatiche quindi tutto questo diventa pericoloso perché a un certo punto cade proprio il principio di autoconservazione per te il pensiero principale è salvare questa relazione tenerla in piedi conservarla tutto il resto non conta e quindi non ti accorgi più di nulla di te della tua sicurezza della sicurezza delle persone che ti sono accanto vivi in un perenne stato confusionale è come se tu fossi sempre drogato se tu fossi sempre alcolizzato o peggio è come se tu stessi in astinenza e quindi cercassi la droga cercassi l'alcol cercassi la macchinetta per giocare cercassi il negozio in cui comprare il vestito e quindi a un certo punto in questo stato perennemente confusionale si commettono tantissime sciocchezze molto pericolose quando io ho realizzato il podcast prima di scrivere il libro ho ascoltato tantissime storie perché dovevo sceglierne cinque da mettere nel podcast ed è incredibile vi giuro su mio figlio come in ogni racconto a un certo punto tutti i narratori che non si conoscevano tra di loro non conoscevano le altre storie eccetera e non erano neanche degli esperti in dipendenza effettiva mi raccontavano la loro storia a un certo punto pronunciavano puntualmente la parola morte tutti non ce n'è stato uno che non me l'abbia detta hanno detto io a un certo punto ho rischiato di morire io a un certo punto mi sono addormentato non avevo più una casa questo me l'ha raccontato tra l'altro un uomo che ha vissuto un'esperienza del genere Max mi sono addormentato in questo container perché avevo perso il lavoro non mi portava più niente ero diventato un senza tetto rubavo nei supermercati e mangiavo i minestroni surgelati e me li infilavo in bocca perché non avevo neanche più i fornelli per cuocere le cose e quella notte mi sono addormentato in questo container in un sacco a pelo c'erano meno tre gradi a Udine ho detto io non mi sveglierò probabilmente morirò di ipotermia altre donne mi hanno detto speravo di finire sotto un camion guidavo sempre in stato confusionale io stessa in quel periodo facevo tantissimi incidenti da auto piccoli perché naturalmente ero in città quindi è difficile incappare in incidenti gravi ma continuavo a guidare in stato confusionale con Leon sul seggiolino dietro insomma ho fatto tantissime cose direi da irresponsabile di cui non mi rendevo conto questa è stata la parte forse un po' più faticosa da raccontare nel libro ecco prima di arrivare proprio a quella appunto il clima del libro chiaramente è un po' pesante però poi ci sono anche cose che fanno sorridere abbiamo visto in questa fase per esempio dell'astinenza tu racconti a un certo punto a pagina 128 se volete andare c'è un invito interattivo tu stai raccontando una serata terribile tra l'altro drammatica in cui sei uscita per partecipare a un evento e inviti a googlare il nome il tuo nome un marchio per cui forse eri andata perché era proprio un tentativo di uscire stordendoti proprio per sfuggire all'astinenza e tu invece appunto a googlare questo per trovare una tua foto sul web che ti fecero quella sera ecco io l'ho fatto ho raccolto l'invito e la foto è pure peggio di come ti descrivi perché avevi un vestito cortissimo degli zatteroni color giallo zolfo coordinati alla borsa e allacciati alla schiava io non so se è una suggestione se sono subito perché mi chiedisci così ma erano sembravano proprio i ceppi di un carcerato cioè ti mancava proprio sei amica di lui tu no no ti voglio dire che tu dici c'è una foto sul web che mi scattò è quella lo riconoscevo esatto all'evento che si chiamava Angel Devil si trova ancora googlando indosso un vestito nero molto corto scarpe gialli non indimenticabili invece sì indimenticabili non mangiavo da almeno due giorni sembra che sorrida e questa è la parte su cui volevo andare ma erano i primi giorni dell'astinenza e stavo malissimo quindi insomma sembrava tu stessi bene rimagra bellissima come sempre e invece non è che stai bene necessariamente se sei mai neanche bellissima ma no infatti però guarda quella foto lì è davvero come dire per me un trauma ogni volta che la vedo ancora perché davvero intanto inganna tantissimo come dici tu no perché ero tutta in tiro eccetera però mi fa anche tenerezza perché ricordo proprio quella serata lì in cui io ero stata mollata da lui da pochissimo da pochissime ore ed ero talmente incapace di elaborare di gestire quello che mi stava succedendo ero così stordita da questa da questa notizia perché per me insomma avevo fatto talmente tanto per preservare questa relazione insomma avevo pulito tutte le fughe nella doccia e non era servito a nulla tutto quello che avevo fatto era stato inutile perché poi lui a un certo punto mi ha detto saggiamente devo dire basta che ho cercato in tutti i modi di rifiutare l'idea che fosse finita e quindi ho evitato il dolore nella maniera più goffa e più stupida che si può fare che si possa fare in questi in questi casi che è quello di stordirsi di uscire di vedere altre persone di far finta di non essere attraversati dal dolore e quindi quella sera lì poi tra l'altro ho finito in quella casa che una mia amica mi aveva prestato perché lui mi aveva proprio cacciata di casa eccetera mi ero comunque vestita a festa e avevo detto beh vabbè ma mollata io esco comunque e e si vede proprio in quella foto lo sforzo di sembrare felice di essere comunque seducente di sentirmi bella e piacente nonostante quel momento mi sentissi uno schifo e avessi tra l'altro il terrore di tornare a casa quella sera perché io sarei tornata in una casa vuota prestata da un'amica venduta quel giorno stesso a un'altra persona perché lei aveva fatto il rogito quel giorno ma insomma prestata quindi io ero entrata in quella casa col terrore che il proprietario di casa quella notte si palesasse e dicesse ma chi è questa che mi ha occupato casa eccetera con un materasso e un televisore insomma è davvero la fotografia del momento di uno dei momenti più cupidi di quella storia eppure insomma mi ero impegnata molto perché sembrasse appunto che io stessi bene fossi felice ecco poi appunto il punto più delicato ci sono molti episodi drammatici altri che racconta e che sono tutti appunto molto tra l'altro descritti benissimo ma forse il più grave è proprio quello che riguarda Leon e lo vediamo attraverso gli occhi della sua amica Giussi che l'accompagna per l'ultima volta a raccogliere le ultime cose da questo loft e si guarda intorno e comincia a guardare Giussi fece un giro per dare un'occhiata al loft scusa ma davvero tuo figlio dormiva lì sotto mi domandò quando vide l'area relax nel seminterrato annui vergognandomene e se per salire di notte mentre tu dormivi si fosse messo a fare queste scale senza ringhiera da solo non ebbi il coraggio di replicare che Leon l'aveva già fatto che aveva gattonato sulle scale fino a su al ballatoio per arrivare in camera mia e soprattutto non ebbi il coraggio di dirle che nonostante tutto ero rimasta lì io ed era rimasta la sotto la sua cameretta anche dopo quell'episodio che mi aveva così spaventata si può confessare a qualcuno di aver avuto più paura di perdere un uomo che di rischiare che il proprio bambino cadesse dalle scale ve lo dico io no allora questa è stata la parte più difficile da raccontare non tanto perché io mi preoccupi della mia reputazione ma perché non l'avevo mai raccontata neanche al padre di Leon fino in fondo neanche a Leon e quindi avevo paura un po' della loro reazione però sentivo che non sarei stata onesta fino in fondo se avessi raccontato questo libro come tagliando questa parte perché se l'avessi tagliata sarebbe stato un libro troppo autoassolutorio e io non voglio autoassolvermi non mi do colpe questo è evidente ma mi assumo tutte le responsabilità possibili ho davvero in quel periodo ritenuto che salvare quella storia fosse più importante che salvare me stessa e quindi anche mio figlio non è vero che le madri mettono sempre i figli al primo posto siamo esseri umani anche da madri l'altra sera c'era Monica Bellucci ospite a Ballando Pure Stelle naturalmente io le ho lasciato dire un po' quel che cavolo voleva perché mi sembra giusto non è che ti alzi la mano già ho fatto tanti di quei casini là dentro quest'anno il vaccino ci mancava solo che contestassi Monica Bellucci però a un certo punto lei ha detto con quest'area molto solenne meravigliosa come lei ha detto sono diventata mamma e insomma quando una è mamma è mamma tutta la vita io volevo dire ma vaffan cioè che palle che retorica l'hai sentita che per carità ha detto con il suo volto con la solennità con cui dice tutto lei ci avete fatto caso non scrivete questa cosa vi sto dicendo vi prego però ci avete fatto lei dice sempre tutto con quest'area davvero ispiratissima solenne tu pensi che tu stia per dire una verità assoluta e poi dice una minchiata totale però l'hai detta così bene cioè con una propedeutica così ammaliante anche l'accento francese brava anche quello è un po' questo un po' così che tu sei sempre lì che dici ecco cosa per dire la perla e poi dici ma che c'è manco ti la cipollare direbbe una cosa e quindi adesso a parte tutto comunque posso anche capire ognuno poi vive la maternità in maniera assolutamente individuale e per cui non contesto neanche il concetto dico solo che è chiaramente molto limitato e limitante e io non mi sono sentita sempre amata e migliore nel mondo e ho smesso alle volte di essere mamma perché in quel momento ero una compagna infelice disperata con i miei problemi da risolvere ed ero una figlia pure io in quel momento perché parliamoci chiaramente quando tu non hai risolto dei problemi dei nodi affettivi che risalgono magari all'infanzia e sei così bisognoso d'amore da attaccarti disperatamente ai pantaloni di un uomo che forse in qualche modo ti ricorda una figura genitoriale da cui volevi sentirti profondamente amata che invece era una affettiva eccetera ecco in quei momenti tu non puoi essere mamma la verità è che tu sei figlio in quei momenti sei un bambino io mi sono sentita davvero una bambina in quei quattro anni con le stesse difficoltà le stesse esigenze le stesse necessità dei bambini quando ho intervistato una delle ragazze del podcast mi ha detto una cosa che mi ha commosso tantissimo che abbiamo lasciato nel podcast lei mi ha detto che nel momento peggiore di quella storia quello in cui proprio cioè lei ha pensato di morire per quest'uomo che tra l'altro era un dipendente a sua volta dalle droghe lei si è seduta sul bordo del letto e ha detto voglio la mia mamma ed era una donna di 37 anni con un figlio e un divorzio alle spalle lei ha detto voglio la mia mamma quindi regressione infantile piena capisci per cui era chiaro che io in alcuni momenti di quella storia non fossi in grado di occuparmi di mio figlio questo non vuol dire che in questi 4 anni sia stata una pessima madre molto spesso non avevo la forza di svegliarmi la mattina perché sentivo questa angoscia di affrontare la giornata senza di lui ma lo facevo perché comunque avevo il senso del dovere amavo mio figlio eccetera però inevitabilmente non è stato un percorso lineare e ho trovato giusto raccontarlo perché poi è un po' abusata anche l'espressione mamma imperfetta qualcosa su cui giochiamo un po' tutti sono una mamma imperfetta però fa figo dirlo perché magari arriviamo 10 minuti in ritardo a scuola io sono una mamma imperfetta ho mandato mio figlio con una macchiolina sulla felpa a scuola quello non è essere una mamma imperfetta è essere una mamma essere umani eccetera quindi è secondo me è una roba quasi un po' figa da dire mentre essere una madre imperfetta vuol dire molto altro si può essere anche delle pessime madri in alcuni momenti non vuol dire esserlo in senso assoluto facciamo degli errori macroscopici l'importante io lo dico sempre è saper riparare io lo dico forse l'avevo detto anche a te Sara sono davvero una pessima costruttrice pessimo architetto ma sono bravissima nel riparare e credo sì nel ricostruire nel riparare nel riaggiustare mi sono reinventata tante volte nella vita e quindi poi ho riparato molto bene però devo dire che quando io ho lasciato mio figlio in quel semi interrato dormire con la consapevolezza che si sarebbe potuto arrampicare su queste scale che erano infilate al muro senza nessun tipo di ringhiera e doveva fare due rampe quindi insomma ed è successo che l'abbia fatto e quando l'ho fatto e l'ho realizzato quello che avevo fatto mi sono resa conto della pericolosità di quello che avevo vissuto ecco ultime due domande direi che è ora di accennare come ne sei uscita visto che dire che ora stai bene non hai spoilerare insomma un po' si vede credo che adesso sia vero è di dieci anni ecco la frase illuminante era stata della augopunturista mi pare sposti lo sguardo ecco tra l'altro oggi è anche Santa Lucia protettrice della vista quindi magari può diventare cosa voleva dire guarda prima ancora di lei me lo disse una mia amica quando io insomma andavo a dire alle mie amiche però lui è veramente pessimo lui è una persona piena di problemi lui è inaffettivo lui è cattivo lui è sadico lui non sa amare lui rimarrà solo tutta la vita io dicevo sempre questa cosa poi un po' è vera ecco all'ennesima volta qui le mie amiche sentivano dirmi questo ce ne fu una giusi che quando appunto le dissi guarda cioè veramente lui si deve far aiutare perché è una persona piena di problemi deve andare da qualcuno e farsi aiutare lei mi disse amica hai mai pensato che quella che si deve far aiutare sia tu forse dovresti farti aiutare tu perché non vai tu da un psicologo perché ti preoccupi del fatto che lui debba andarci e se non fossi tu quella che ci deve andare ecco lì ho cominciato a spostare lo sguardo come ha detto la dottoressa da cui era andata nel senso che ho cominciato a capire che io volevo a tutti i costi conservare questo rapporto preservarlo cambiando lui e modificando lui ma questa era una battaglia persa anche perché i narcisisti i manipolatori sono dei dannati cioè raramente ammettono le proprie fragilità e lavoreranno su quelle è molto difficile che lo facciano potevo però lavorare su me stessa perché tutti noi inciampiamo in persone che vogliono manipolarci che insomma potrebbero in qualche modo farci cadere un amore tossico ma se a noi quelle persone non attirano se su di noi non hanno nessun tipo di appeal non ci attirano se sappiamo riconoscere siamo protetti come se fossimo vaccinati come se avessimo un super green pass di tre dosi da quelle persone per difenderci da quelle persone per cui sono innocue fondamentalmente se noi abbiamo tanto il risolto se abbiamo questa fame d'amore assoluta questo vuoto questo buco nella pancia definito da qualcuno così in maniera molto efficace inevitabilmente andremo in giro affamati e nel momento stesso in cui incontriamo qualcuno che sa come come dire farci del male infilandosi in quelle pieghe di mancanze e di dolore ecco a quel punto siamo veramente molto vulnerabili io dico sempre che siamo come se noi dipendenti affettivi fossimo anche quando non viviamo storie tossiche avessimo un virus latente fossimo portatori sani quindi le soluzioni sono due tenere a bada quel virus tenerlo molto a bada proteggersi e sapere che potremmo inciampare in questo genere di relazioni io francamente non lo sapevo avevo tantissime avvisaglie avevo avuto insomma tantissimi indizi che avrebbero dovuto aprirmi gli occhi ma purtroppo non me ne sono accorta prima quindi ho davvero scritto questo libro pensando di raccontare una storia personale ma capendo poi che invece sarebbe potuto essere una guida per tante persone che magari pensavano solo di vivere un amore infelice e invece poi scoprono che quell'amore che quella quella relazione è qualcosa di diverso di molto più tossico di un amore infelice ecco infatti alla fine la domanda che ti sei fatta tu ma che ci siamo fatti tutti è come ha fatto a succedere proprio alla Lucarelli che sembra così ben corazzata e paradossalmente appunto la risposta è proprio nei primi due capitoli che parlano di tua madre tu hai già accennato di una ferita che è anche tua e di quel curioso mistero naturalistico che ha nome di memoria dell'anguilla ce lo spieghi allora io voglio dire questo mi fa ho molta difficoltà nel associare con certezza quello che siamo alla nostra infanzia nel senso che alle volte mi sembra un collegamento troppo semplice secondo me è anche molto autoassolutorio come dicevo prima ma sono così perché mio padre è stato così perché mia madre è stata così sì è un po' vero sicuramente però non basta allora ho cominciato a pensare a cosa avessi respirato in casa mia quindi più che cosa fossero i miei genitori quale fosse il modello relazionale che ho visto nella mia famiglia ecco il modello relazionale era il seguente mia mamma una donna intelligentissima coltissima bellissima veramente una donna che avrebbe potuto fare tutto quello che voleva nella vita che a un certo punto giovanissima mentre si sta per laureare incontra mio papà bellissimo uomo più grande di lui di lei eccetera che si stava per laureare mio padre si laurea lei no mio padre era un'offerta di lavoro a Civitavecchia da Genova loro erano in Genova e lei dice sposami andiamo a vivere a Civitavecchia tu lascia tutto vieni lei non si laurea abbandona qualsiasi tipo di velleità di ambizione professionale e diventa mamma di tre figli poi quattro in realtà perché ha un fratello che non c'è più e quindi mia mamma si annulla completamente dedicandosi davvero tutto a questo amore assoluto che io ho scoperto essere tale perché mio papà pochi mesi fa mi ha consegnato delle lettere che mia mamma gli scriveva quando si fidanzarono e proprio lì ho letto la rinuncia totale che ci sono una l'ho riportata la rinuncia totale alla propria identità cioè mia mamma gli dice io ti amo dimmi dice proprio una frase specifica dimmi chi vuoi che io sia e io lo sarò sarò un'eroina shakespeariana mite insomma adesso non ricordo bene i termini oppure sarò volitiva cioè lei gli dice io sono sarò quello che tu vuoi che io sia quindi l'annullamento totale dell'identità e mia madre ha vissuto tutti questi anni di matrimonio con noi figli piccoli poi grandi con questo rancore profondo questo livore e questo incolparci continuo e costante di essere la causa di tutte le sue rinunce no? io per crescere voi ho abbandonato voi è per colpa vostra e io domani scappo me ne vado e sarò quello che voglio essere perché io non sono stata così per colpa vostra e lei era perennemente arrabbiata con tutti dentro casa e io ho capito quindi perché sono incazzata nera nella vita però io poi ho capito nel tempo che lei non era arrabbiata con noi lei era arrabbiata con se stessa perché si era davvero amputata aveva coltivato questa idea di un amore romantico assoluto che poi non poteva inevitabilmente corrispondere e aderire alle sue aspettative e quindi questo rapporto tra i miei genitori è sempre stato quello di una madre e di una moglie affamata d'amore che chiedeva a mio padre di essere amata così come lei aveva sognato leggendo libri di eroine shakespeariane libri di letteratura francese eccetera e mio padre che era un anaffettivo molto introverso chiuso asociale eccetera che quindi non le ha mai dato quello che lei voleva e comunque non avrebbe mai potuto non sarebbe mai riuscito ecco io credo di aver come i piccoli dell'anguilla e io sono tornata lì nel senso che alla fine ho detto io non sarò mai come mia madre era una cosa che mi ero imposta io non sarò mai come mia madre perché non sarò mai infelice rancorosa perché non mi sono realizzata nella vita e quindi ho pensato che in qualche modo mi fossi affrancata da quel destino perché ho studiato ho cominciato a lavorare a 18 anni io già a 18 anni non dipendevo più dalla mia famiglia eccetera mi sono realizzata nel lavoro sono diventata una giornalista ho fatto televisione ho detto guarda mamma sono riuscita tutto quello in cui tu non sei riuscita mia madre non aveva preso la patente non aveva io a 18 anni e due giorni ero già iscritta alla scuola guida è tutto però alla fine nella sfera sentimentale non me ne sono mai accorta ma ero mia madre cioè per quanto io avessi lavorato su tutto quello che mi sembrava più evidente il modello relazionale che io ho assorbito fino ai 18 anni in cui sono stata a casa era quello e l'ho riprodotto esattamente nella mia vita nella mia sfera affettiva senza accorgermi sono diventata come si dice Star Wars tutto quello che io ho deciso di combattere esattamente quello senza accorgere quindi tu dici perché come è potuto succedere proprio a te perché noi non siamo una cosa sola cioè non siamo un pezzo di marmo abbiamo tutti noi una stanza segreta qualcuno la definisce tale che è un miscuglio di tante cose quello che abbiamo respirato quello che abbiamo vissuto la nostra indole il nostro codice genetico l'ambiente in cui siamo cresciuti le nostre ambizioni e quella poltiglia lì cioè quel miscuglio lì è davvero la cosa più misteriosa che possiamo avere la meno facilmente decodificabile ecco in quella quel miscuglio lì c'era anche quella bambina in fondo che è rimasta tale che voleva essere amata che voleva vedere due genitori felici che ha visto una mamma che voleva essere altro e che non è riuscita ad essere che non è riuscita ad essere